Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, anche oggi abbiamo un sacco di notizie di cui parlare per quello che succederà nei prossimi giorni di Fortnite, ragazzi. Nei prossimi giorni, proprio fra due o tre, nel video di oggi, ragazzi, parleremo di altre news rilasciate da pochissime ore sulla patch 7.40. Prima di farvi uscire, ovviamente, il video ufficiale con la patch notes rilasciata da Epic Games. Parleremo anche del Secret Skirmish, ragazzi, davvero un evento che sembra passare in segreto. Forse soppiantato da quello che sta succedendo o comunque non promosso adeguatamente da Epic Games. Ma ragazzi, ce ne saranno delle belle e ovviamente non mancheranno un bel po' di leaks per tenervi anche aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Voglio davvero ringraziarvi di cuore anche oggi a tutti quelli che utilizzano il mio codice CREATOR XIUDERONE. Grazie ragazzi per scioppare di prepotenza con il mio codice. Mi ha aiutato da... mi aiutate! Sono dislessico oggi davvero tantissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna news e non perdere le live. Ma è la prima, ragazzi. Ho una domanda da farvi. Ho la domanda, ve la faccio sempre. Mi raccomando, commentate qui sotto. Ci tengo, non ve lo sto più neanche a dire, ve lo dico. Ci tengo che mi rispondiate, ragazzi. La domanda è molto interessante. Quale preferisci tra le due? La P90 oppure la Thompson? Due armi davvero molto molto interessanti, entrambe che funzionano con i colpi piccoli. Qual è la vostra preferita? Quale preferite? La mia P90. A me piace il P90 perché ti lasera il P90. Mi piace veramente un sacco. Scrivete qua sotto. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance. Andiamo subito, subito a parlare, ragazzi, di quando arriverà la patch 7.4. Doveva uscire ieri. È stata rimandata di 24 ore. Beh, ragazzi. La data ufficiale la potete anche trovare direttamente nella dashboard della vostra lobby. Alle ore 10 andranno giù i server. Quindi, ragazzi, sarà una patch molto interessante anche dal punto di vista di quello che riguarda i leaks. Perché, come vi ho già detto ieri, quando c'è un downtime dei server e quindi l'aggiornamento inizia ad essere interessante e pesante a livello di giga, si nascondono sempre tante cose che spero di dirvi nel più breve tempo possibile. Quindi, dalle 10 di oggi, downtime dei server, speriamo che non duri più di un'oretta. Ma andiamo avanti e voglio anche ricordarvi, importantissima, ragazzi, se inserite il codice CREATOR nel vostro shop proprio oggi, quando, anche se l'avete già inserito va bene uguale, ragazzi, non preoccupatevi, quando aggiornerete otterrete, otterremo, la otterrò anche io, la skin di San Valentino. Davvero molto molto bella, particolare, direi. Ovviamente va a riprendere appunto il tema di San Valentino con un bel fucsia di base e dei cuori neri. Tanta roba come... non una delle più belle, sinceramente, però a me piacciono le skin dei veicoli e delle armi e quindi perché non ottenerla? Ma andiamo avanti e... Cattivo così, ragazzi. Perché vi ho fatto quella domanda a inizio del video? Beh, ragazzi, perché sono apparsi dei leaks da pochissime ore e sembrano essere confermati, non ufficialmente, ovviamente, ma da altri leakers. Se io mi affido ai leakers, sembrerebbe, ragazzi, che con questa patch verrà tolta la P90 e verrà reinserita la Thompson, che ovviamente in inglese si chiama Drum Gun, il fucile a tamburo, pistola a tamburo, chiamatela un po' come volete. E... bella domanda, ragazzi, bella cosa. Io, sinceramente, un po' mi dispiace se dovessero togliere la P90, però, vabbè, anche la Thompson era veramente devastante. Potresti tranquillamente utilizzarla quasi come sostituta di una R, considerando che è un'arma che colpisce anche a media distanza e con un po' di fire control diventa veramente devastante. Staremo a vedere se questo leaks si confermerà vero oppure semplicemente era una notizia fake. Spero invece che sia vera. Ma andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece di un update ufficiale che invece sappiamo che arriverà con questa patch. Mi rivolgo a tutti gli utenti di Nintendo Switch e a tutti gli utenti di mobile. Ci sarà, ragazzi, la nuova abilità per il tracking di tutti i tuoi progressi in gioco. Potrete guardarli con le altre vostre piattaforme. In poche parole, le vostre statistiche in-game per chi gioca da mobile e da Switch, volendo, le potrete anche vedere se utilizzate con lo stesso account, magari il computer o magari una PlayStation o un Xbox, tanta tanta roba e dicono poi Breaking up stats by each individual limit time mode. Fermeranno le statistiche momentaneamente per le modalità a tempo limitate. Ma la cosa che ci interessa è soprattutto la possibilità di poter vedere le statistiche su tutte le piattaforme. Quindi un'altra notizia che sicuramente non può che essere una cosa interessante per quello che riguarda appunto la patch 7.4. Ma andiamo avanti, ragazzi, ed eccola qua un'altra notizia veramente cattiva. Questa è super ufficiale perché non è altro che, come sempre, è sempre piccolissima, porca miseria. È il signor Eric Williamson. L'abbiamo già visto ieri. È uno dei capoccia di Epic Games molto attivo nell'account di Reddit che praticamente conferma una modifica ulteriore all'RPG. Nonostante ci hanno diminuito il drop rate dei rocket nella patch 7.3, quindi è più difficile trovare rocket in giro, nonostante in questa patch aumentino quasi di un secondo il tempo di ricarica dell'RPG, addirittura sembra che da questa patch sia impossibile trovare l'RPG nei chest. stanno, secondo me, cominciando a metterci l'idea che l'RPG non sarà più utilizzabile in Fortnite. Non subito perché sarebbe traumatico toglierlo ai giocatori in questo momento, ma dovrebbe essere disponibile solo nei drop, quindi solo nelle mongolfiere. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere questa cosa che effetto avrà sui giocatori, che effetto avrà sul gameplay. Io personalmente sto cercando di lasciare l'RPG, sto già abituandomi a non prenderlo più, piuttosto lo sostituisco con un cecchino o eventualmente con una digola. Ovviamente stiamo a vedere, ragazzi, che modifiche apporterà questa cosa. Ma voglio anche andare avanti dicendovi, ragazzi, che questo weekend, il 14 e il 15 febbraio, e il prossimo weekend, è il weekend dei doppi punti esperienza. Quindi mi raccomando, se dovete livellare, approfittatene e giocate in squad, ragazzi. Giocate in squad perché otterrete il quadruplo dei punti esperienza. Questo vi serve appunto per avvicinarsi al livello 100 stagionale e comunque per completare il pass battaglia. Voglio chiudere molto brevemente parlandovi un attimo del Secret Skirmish. Ne avevamo già parlato due o tre settimane fa, ragazzi. è l'evento con mezzo milione di dollari, come Montepremi. Comincerà il 14, quindi questo 14 di febbraio, e terminerà il 15. Una o due giorni dove 100 giocatori, tra i migliori che si sono qualificati in diverse competizioni, chi è arrivato nella top 20 dell'evento PAX, chi è arrivato nella top 20 del TwitchCon, chi è arrivato nella top 35 del Winter Royale, o nella top 25 della Explorer Cup, parteciperà a questo torneo, dove il primo giorno si giocherà in singolo, il secondo si giocherà a coppie. Saranno dei punti su 6 match, chi totalizza più punti si porta a casa il Montepremi. Probabilmente sarà ovviamente streamato sull'account di Twitch ufficiale di Epic Games, ci sarà Tfue, ci saranno dei grandi giocatori a livello mondiale, Ronin, Gol, Cerclozi, Gorilla, Sian, ci sono veramente tante persone che se volete vedere all'opera, ecco questa è l'occasione giusta. Beh ragazzi, io vi auguro davvero una buona giornata, non vedo l'ora che arrivi la patch 7.40, vi caricherò sicuramente il video delle news ufficiali, per adesso vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi intanto al canale, supportatemi col codice XIUDERONE, noi ci vediamo presto, ciao! Ciao!